Occhio ai giornali di sabato 6 marzo 2021, buongiorno, ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV, questa è l'informazione, il commento alla stampa del giorno con occhio ai giornali che comincia con il santo del giorno, il santo di oggi è Beata Rosa da Viterbo, sole sorto alle 6.39, tramonterà 5 minuti dopo le 18. Cambia il tempo, allora vediamo subito il bollettino della protezione civile delle marche per oggi avremo un cielo parzialmente nuvoloso con schiarite solo nel corso del pomeriggio durante la notte al primo mattino piogge sparse occasionalmente anche a carattere di rovescio fenomeni assenti sin dal pomeriggio, vediamo domani invece domenica 7 marzo ancora precipitazioni nel pomeriggio nelle zone appenniniche e occasionalmente anche sulla fascia collinare in serata per lunedì ancora mal tempo con piogge diffuse e con continue con locali rovesci ancora dunque soprattutto nella giornata di lunedì anche la possibilità di neve sui monti martedì ancora pioggia le marche, le marche sono a due colori sono di colore rosso per le province di Ancona e Macerata e poi di colore giallo invece per tutte le altre tre, quindi le province di Pesurbino, Fermo e Ascoli Piceno e questo è il titolo del Corriere Adriatico di oggi ancora Macerati in rosso, il resto in arancione ma da oggi cambieranno le regole con il nuovo DPCM numeri in peggioramento, altri mille positivi, crescono i ricoveri e le terapie intensive siamo a quota 92, ieri intanto 11 morti sui vaccini, postazioni raddoppiate, allestite anche la palestra di Celletta e poi l'intervista che il Corriere Adriatico ha realizzato con Iginio Straffi imprenditore con la capacità di plasmare la materia dei sogni e lui dice siamo isolati e divisi, serve una magia delle super fatine poi scuole medie chiuse, Ricci dice i dati indicano una decisione inutile artigiani attendono dal mese di settembre la cassa integrazione e il sindaco in calza Pesero Zingaretti ritiri le sue dimissioni mentre di taglio basso la fa in Urbino entro tre mesi lo studio per la riattivazione entro due o tre mesi ci sarà pronto lo studio di fattibilità per la riattivazione della fa in Urbino come ferrovia turistica e questo l'impegno assunto dall'amministratrice delegata di RFI Vera Fiorani con la sottosegretaria Rossella Cotto l'investimento indicativo secondo RFI è di 50 milioni di euro e poi per lo sport la federazione italiana gioco calcio ha dato il via libera l'eccellenza dunque può tornare in campo il carriero di Pesero, scuola tamponi e polemiche lo screening di Pesero appunto finito con 14 positivi questo è il bilancio file interminabili però e assembramenti il richiamo anche o meglio rischiamo anche noi la zona rossa nuovo record di contagi ora la regione discute l'ipotesi di ulteriori restrizioni in provincia il Carlino invece di Ancona altro record di contagi zona rossa Marche sfondano il muro dei mille casi in un giorno ecco cosa prevede la nuova ordinanza per l'Anconetano e poi di spalla vi segnalo e leggiamo insieme questo trafiletto caffè illegali e passeggiate da positivi ora questo fa riferimento alla provincia di Ancona però possiamo tranquillamente applicarlo un po' in tutta Italia in barba alle restrizioni c'è la zona rossa fino al 14 marzo nella provincia di Ancona ma c'è anche chi non si cura delle regole c'è una coppia fabrianese che anche se positiva chiama gli operai per farsi montare i mobili a casa ma anche chi infettato non può resistere alla voglia di un kebab notturno ed esce per prendersi una doppia sanzione a Marzocca oppure chi non sa stare senza gli amici e li va a trovare dopo le 22 incontrando però i carabinieri meno amichevoli ma c'è anche chi non sa rinunciare al caffè al bancone del proprio bar preferito a Ostra un caffè costato molto caro sia alla signora che al titolare del locale per le sanzioni ricevute la fotonotizia invece è per i vaccini anche a domicilio c'è infatti l'accordo con i medici di base ma le dosi scherseggiano dicevamo del record che è stato battuto ieri nelle Marche un record che riguarda il numero dei contagi più di mille in un solo giorno i positivi da inizio emergenza invece sono 71.423 scrive Lorenzo Sconocchini sul Corriere di questa mattina ieri c'erano 10.200 persone con un'infezione attiva ovvero ci sono più di 10.000 marchigiani persone che risiedono nelle Marche che hanno il coronavirus 951 di queste sono ricoverate tra reparti Covid pronto soccorso e RSA poi c'è un altro dato invece che purtroppo è cambiato l'indice di contagio RT puntuale stimato per le Marche sale da 0,98 a 1,08 superando per la prima volta dal 9 novembre la soglia critica appunto che è di 1 allora questi indicatori che ci hanno quasi miracolosamente lasciato bicolori nel senso che soltanto le due province che abbiamo detto Ancone e Macerata sono rosse le altre tre sono gialle in realtà non ci credeva nessuno al fatto di poter rimanere in scusate in arancione questo arancione durerà secondo gli esperti visto l'andamento fino al 14 poi saremo tutti in zona rossa e perché? Perché gli indicatori e qui siamo a pagina 3 del resto del Carlino parlano chiaro ieri sono stati registrati 1027 nuovi contagi a fronte di un numero record di tamponi molecolari 3.084 i nuovi casi sono stati individuati 257 in provincia di Macerata 346 ad Ancona 228 a Pesorurbino vedete come è poca la differenza tra Pesorurbino e i casi del maceratese per esempio 257 contro 228 un po' meno nel Fermano 74 e 93 nella zona del Piceno poi quali sono gli altri indicatori che stanno andando male la soglia di incidenza pari a 250 casi settimana per 100.000 abitanti che impone il massimo livello di mitigazione possibile ed è stata superata in 5 regioni appunto tra cui le Marche 265,16 per 100.000 abitanti ora poi c'è l'altro fronte che è quello ospedaliero anche qui non siamo messi affatto bene sono 685 le persone ricoverate come abbiamo visto più 18 nella giornata di ieri 40 in più di due giorni i pazienti in terapia intensiva salgono da 87-92 28 a Marche Nord dove sono state intubate 3 persone metà dei quali dall'Anconetano perché Marche Nord sta ricevendo anche le persone i pazienti da Ancona da Macerata salgono anche i ricoveri nelle aree semi-intensive da 168 a 171 52 di questi soltanto all'ospedale Marche Nord che comunque sta ancora reggendo e anche il Corriere Adriatico a pagina 3 titola sul bollettino impennata dei ricoveri di terapia intensiva 20 pazienti in più rispetto a domenica mentre zona rossa per Ancona e Macerata un altro lockdown fino al 14 marzo il governatore Acquaroli ieri ha firmato l'ordinanza in vigore già da oggi valgono le regole del nuovo DPCM dunque chiusi parrucchieri e anche i barbieri dunque per quanto riguarda i dati li abbiamo appena visti ecco c'è un'intervista a pagina 4 del Carlino di oggi a Filippo Saltamartini che è l'assessore alla sanità regionale Saltamartini dice vaccini non siamo indietro però Pfizer e Moderna scarseggiano questo è il punto e quindi Saltamartini questa mattina replica un po' alle accuse che sono arrivate nella giornata di ieri e dice abbiamo somministrato il 76,8% dei sieri che abbiamo ricevuto e siamo quindi oltre la media nazionale poi la questione delle nuove sedi si allargheremo perché è inconcepibile che le strutture non siano idonee come per esempio quello della celletta a Pesero ma attenzione andiamo a vedere più nel dettaglio questo articolo che vedete nel televisore avete 36.000 dosi ferme nei magazzini chiede il collega come lo spiega ricordo che dobbiamo mettere da parte dice Saltamartini i richiami per 100.000 dei 130.000 over 80 marchigiani che sono residenti in casa e che saranno immunizzati entro marzo e abbiamo calcolato una quota di prodotto per i fragili che vanno a fare le cure negli ospedali e che in teoria hanno un rischio più alto di contagio e poi come intendete procedere con loro tutti i malati gravi risponde ancora Saltamartini penso ai malati di SLA o ai trapiantati avrebbero diritto di essere vaccinati subito ma dobbiamo affrontare il problema dei rifornimenti che è lo stesso problema in tutta Italia perciò nell'ambito delle possibilità che abbiamo stiamo studiando come aiutarli pur sapendo che abbiamo 30.000 vaccini e dobbiamo coprire 300.000 persone tante sono infatti quelle che esenti per patologie poi ci sono altre domande interessanti con le risposte che troverete appunto l'intervista la realizzata Simona Spagnoli la troverete a pagina 4 del resto del Carlino andiamo invece a pagina 4 del quotidiano nazionale perché parliamo anche qui di vaccini le cose cambiano è arrivato Draghi e dunque rispetto al predecessore Conte qualche cosa sta cambiando fasce d'età e pieni poteri l'esercito in campo un po' come è successo negli Stati Uniti come abbiamo visto ieri nuovo piano vaccini l'Italia volta pagina il commissario Figliuolo che lavorerà gratis Figliuolo arriva dall'esercito entro fine marzo dice arriveranno 7 milioni di dosi cambia anche il criterio delle categorie la regia della campagna nazionale della campagna sarà nazionale e quindi questa regia come dire nazionale metterà un po' un freno alla disparità tra regioni abbiamo visto più volte come regioni come il Veneto e quant'altro insomma hanno tentato di fare un po' da sé anche perché vedevano sostanzialmente che dal governo le cose non andavano nel verso giusto e quindi facevano un po' per conto loro ma per evitare disparità tra le regioni adesso la regia sarà nazionale e poi arriva l'ok anche ad una sorta di scorta di solidarietà per le zone più colpite l'altra notizia invece che andiamo a leggere sempre dal quotidiano nazionale per vedere un po' anche come sta andando in giro per il mondo ieri abbiamo visto gli Stati Uniti che ha vaccinato quasi 80 milioni di americani adesso andiamo invece in Israele Israele vaccina praticamente ovunque e sta per battere tutti quanti il titolo vaccini in fabbrica al pub Israele batte tutti ai ragazzi pizza gratis dopo l'iniezione Arnon Shahar responsabile della campagna dice siamo andati anche nelle sinagoge i rabbini hanno convinto gli ultra ultra ortodossi quelli che insomma non volevano vaccinarsi il pass invece vaccinale è un grande incentivo senza infatti senza questo pass questo tesserino non si può andare né a cena fuori né al teatro né in palestra mentre sempre dal carlino nazionale origine del virus sull'origine del virus continuano i dubbi dell'organizzazione mondiale della sanità e anche qui una volta che sarà finito tutto quanto se davvero si vorrà arrivare alla verità ci sarà da ridere l'OMS continua ad avere dubbi sull'origine del virus come ha detto qualche settimana fa il numero uno dell'organizzazione mondiale della sanità dice tutte le piste restano dunque aperte compresa quella che riguarda la possibile uscita di questo virus da un laboratorio di questo famoso Wuhan questa famosa città che è epicentro di questa pandemia in Cina lo riporta il Wall Street Journal che riferisce di una lettera aperta inviata da una ventina di scienziati che chiedono una nuova inchiesta internazionale perché perché il team dell'OMS che è andato qualche settimana fa appunto in Cina il mese scorso sostiene di non aver avuto accesso sufficiente per indagare su queste possibili fonti del virus inclusa una possibile fuga da un laboratorio e come risponde la Cina ve lo risparmio perché non abbiamo tempo potete immaginare insomma la Cina non è d'accordo su questa su questa su questa cosa parla di respinge come politicizzata questa richiesta di ulteriori controlli e bla 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 perché tanto sappiamo come vanno le cose da quelle parti medici di base invece questa è una notizia che speriamo possa in qualche modo aiutare nel nel cammino nel difficile cammino della vaccinazione medici di base dal 15 marzo potranno vaccinare in ambulatorio è stato raggiunto finalmente questo accordo per la somministrazione delle dosi anti-covid anche a domicilio a Quaroli dice con le adesioni volontarie potremo contare su quasi 1200 professionisti salta martini in ritardi a marzo solo 100.000 dosi da parte di Pfizer quindi vedete come scarseggiano è qui il problema la scarsità di dosi poi AstraZeneca invierà un'altra fornitura alla fine del mese e quindi insomma speriamo dipendiamo in tutto e per tutto da queste case farmaceutiche raddoppiano i punti vaccinali alla celletta a Pesero anche la palestra sopra il luogo di Asure comune al centro Monaldi una soluzione temporanea ma subito operativi dunque il quartiere Celletta raddoppia i punti di vaccinazione oltre al centro sociale le dosi verranno somministrate anche nella palestra e Ricci attende la risposta di Acquaroli alla sua richiesta di avere quattro sedi su tutto il comprensorio di Pian del Bruscolo valida l'opzione BS ma il sopralluogo slitta per trovare un nuovo spazio uno spazio che possa garantire le vaccinazioni in sicurezza a una fetta più ampia della popolazione pesarese il dipartimento dell'area vasta 1 coordinato da Carlotti e dal direttrice del distretto disposto guarda due soluzioni l'una temporanea e l'altra definitiva va nella direzione per una vaccinazione diffusa che ci porterà oltre l'estate la ricerca di una sede unica sostitutiva appunto alla Monaldi che abbiamo visto non va quindi l'opzione BS è ancora valida la scuola da oggi abbiamo visto in tutta la regione si va a didattica a distanza a parte le elementari noi siamo pronti alla DAD ma informazioni sono arrivate in ritardo i presidi fanesi non si perdono d'animo ma ammettono si crea un vuoto dunque da questa mattina la didattica a distanza torna anche per le scuole medie noi siamo pronti ma questa non è scuola dice Claudia Torelli la vicepreside dell'istituto Nuti non è scuola almeno per ragazzi e ragazze di questa età che hanno bisogno di essere seguiti con uno sguardo un gesto con un intervento educativo personalizzato scuole medie chiuse da oggi i dati ci dicono che è inutile invece Ricci contesta la decisione di Acquaroli concluso infatti lo screening a Pesero nelle scuole su 1732 sono 4 i positivi presidi preoccupati ma in linea dobbiamo contenere gli effetti boom causati dalle varianti intanto sempre dalle cronache del resto del calino a Senigallia un positivo va in giro dopo il coprifuoco per lui scatta una maximulta ha provato a giustificarsi ha detto andavo a prendere un kebab 4 sanzioni a 3 persone diverse nell'ambito dei controlli anti-covid a Ostra invece una signora è stata trovata dai militari a consumare in un bar ed è stata quindi multata sia lei che il titolare ovviamente del locale mentre sempre dalla pagina di Senigallia ancora la cronaca affitta il mezzo e poi fugge in Romania la ditta aveva concesso una proroga dopo il regolare anticipo ma l'uomo era scomparso ed è stato denunciato a Macerata invece insomma anche lì zona rossa i commercianti sono un po' desolati dicono stiamo stiamo ritornando un po' al passato dopo un anno siamo praticamente da capo da oggi di nuovo giù le saracinesche dei negozi i commercianti tra rabbia e incertezza dovevano intervenire prima paghiamo il prezzo di comportamenti sbagliati ed è lì la questione noi lo ripetiamo tutti i giorni aumentano i contagi vuol dire che aumenta il nostro disinteresse nei confronti di questa pandemia quando noi facciamo gli egoisti ce ne freghiamo di tutto e di tutti compreso del covid il covid ha la meglio e continua a passare di persona in persona perché quando aumentano i contagi vince il covid e perdiamo noi l'altra pagina invece è un'intervista un'intervista sulle marche dimenticate il Corriere Adriati ancora oggi continua giustamente a sottolineare come le marche siano un po' messe da parte siano in una sorta di oblio oggi parla Iginio Straffi che è il leader dell'animazione made in marche e le difficoltà che ci sono tra alcuni paesi molto famosi importanti anche a livello mondiale come Loreto Recanati e Porto Recanati e lui dice noi non riusciamo a mettere d'accordo la Madonnina quella di Loreto il poeta Recanati e il mare che appunto è Porto Recanati questa regione in sostanza è divisa e quindi poco rappresentata la pagina di Fano invece si parla ancora della ferrovia dismessa ormai da tantissimo tempo la Fano Urbino oggi c'è un intervento che riguarda Rossella Accoto e la tratta di messa appunto di smessa della Fano Urbino entro tre mesi questa è la notizia lo studio di fattibilità e la riattivazione che sarà volano di sviluppo la sottosegretaria Accoto riferisce l'impegno di RFI e ribadisce che servono 50 milioni di euro la senatrice esclude collegamenti sporadici Baldelli considera anche l'uso come metropolitana e Lorenzo Furlani questa mattina fa un po' il riassunto di quello che è di quelli che potrebbero essere possibilità nei prossimi anche due o tre mesi che cosa potrebbe accadere con questa ferrovia che continua a tenere banco in questi in questi mesi continua a essere così interessante però certamente la ferrovia è una una struttura potrebbe essere una struttura importante certamente però ecco credo che prima di collegare Urbino abbiamo bisogno di collegare Roma abbiamo bisogno di collegare Milano abbiamo bisogno di dare la possibilità di muoversi con molta più facilità rispetto ad oggi perché per chi vuole andare a Roma o a Milano in treno sappiamo benissimo che cosa deve passare questo non significa che sono contrario alla Fanurbino anzi la Fanurbino è secondo me una grandissima opportunità pensate immaginate cosa vuol dire passare con un treno in mezzo alle nostre colline alle nostre sarebbe una una attrazione turistica straordinaria è solo una questione di priorità tutto qua Gimarra invece il comitato alza la voce perché qui non siamo sul binario ma siamo su strada il comitato non vuole che si realizzi questa strada invece che passa in mezzo alle loro case e che creerebbe un o meglio distruggerebbe secondo loro il paesaggio circostante il gruppo si oppone alla variante e vuole un incontro pubblico e accusa il sindaco Seri e anche l'ex consigliere Minardi e adesso ci sono 3.300 firme raccolte su questa variante di Gimarra dal comitato per la salvaguardia di Trave Arzilla e Gimarra che chiede un incontro adesso pubblico ancora no alla violenza sulle donne stavolta lo dicono gli uomini Maria Flora Gianmarioli un messaggio simbolico forte Tiziana Stefanelli evento nato a Biella che arriva a Fano a Pesaro invece si continua a discutere oggi sui giornali dell'ex consorzio questo è il rendering che simula come dovrebbe diventare la costruzione delle due torri nella zona dove c'era l'ex consorzio siamo nella zona del porto a Pesaro il titolo ecco le carte della procura torri incompatibili con l'attività del porto fronti critici ambiente per rumori e polveri e la stessa sicurezza questi lavori in contrasto con la normativa urbanistica vigente sulle scuole invece sulla piscina la svolta a terre roveresche la media di Orciano pronta per il prossimo settembre amplificata quella ampliata scusate quella di San Giorgio poi la copertura per la vasca di Pieve Canetti il plesso chiuso da oltre tre anni ma ora dice il sindaco Sebastianelli finalmente i lavori procedono spediti mentre a Cartoceto arrivano quattro nuovi veicoli elettrici due andranno alla polizia locale altri due saranno usati per i servizi di manutenzione presto verranno montate anche le colonnine per ricaricare ovviamente poi questi mezzi colonnine elettriche da Valefoglia invece si parla ancora di biodigestore il tema del giorno il tema della settimana più pericoloso fumare se esplode i danni sono solo al suo interno Green Factory fa chiarezza sul piano d'ambito qui non serve e sul sovradimensionamento dice per fronteggiare i picchi l'ospedale invece perde quello di Urbino tre anestesisti tra le dipartite fa rumore quella dell'esperto Giulio Mancini si è licenziato per andare in una struttura privata il 26 marzo dovrebbe tenersi il concorso per il nuovo primario del pronto soccorso retto dalla dottoressa Mazzici mentre andiamo sull'altra pagina e con questa chiudiamo del resto del carlino per parlare di sport Marini so tutto di vale pronto a sfidarlo il fratello di Valentino Rossi all'esordio nella classe regina con Ducati un nuovo mondo per me dice ma dopo le prime gare voglio già stupire Luca Marini che ha 23 anni con la Ducati del team Sky VR46 e dunque ci sarà da vedere da ridere e da vedere come appunto andrà con la sua moto prima di salutarci vi ricordo le dirette e i programmi del giorno allora alle 9 quindi per chi ci segue in diretta tra poco avremo in diretta da Najaf l'incontro interreligioso sapete c'è il viaggio apostolico del Papa in Iraq un viaggio molto particolare difficile anche pericoloso in diretta da Bagdad alle 15.30 ancora la Santa Messa nella cattedrale caldea di San Giuseppe quindi alle 9 l'incontro interreligioso e poi alle 15.40 invece la Santa Messa mentre tornando in Italia questa sera come tutti i sabati alle ore 21 dal Santuario di Loreto il Santo Rosario e la processione eucaristica vi ricordo che lunedì mattina la rassegna stampa invece non andrà in onda alle 7 bensì subito dopo l'evento sempre da Bagdad che è la cerimonia di congedo del viaggio apostolico il Papa dunque lunedì riparte per far rientro a Roma per far rientro in Vaticano quindi seguiremo alle 7 questo congedo dall'aeroporto subito dopo al termine intorno alle 7.40 7.45 andremo in onda noi con la rassegna stampa grazie per averci seguito vi auguro un buon fine settimana e vi ricordo che questa sera c'è 7 per occhio il magazine di Fano TV arrivederci grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.